22 agosto eccoci insieme al manaco oroscopo oggi è santa maria regina ben trovate e trovati compleanni il rapper italiano lazza nato il 22 agosto del 94 un calciatore che tutti conosciamo bene in italia lautaro martinez argentino 22 agosto 1997 il proverbio ci ricorda ad agosto scarpe mie non vi conosco ariete sbocchi professionali positivi grazie agli stimoli di giove che vi aiuta ad aprirvi a concezioni più avanzate potenziando la creatività prendete in considerazione una proposta ma non abbiate fretta toro possibilità di risvegliare forze nuove dentro voi che vi permetteranno di consolidare il vostro successo e di raggiungere nuove mete coltivate i contatti sociali il partner collabora a risolvere questioni organizzative gemelli l'originalità delle vostre idee vi mette in luce assecondate l'energia creativa prenderete iniziative vincenti buone ispirazioni per decidere e positive risoluzioni di interesse pratico cancro non perdete fiducia dei vostri mezzi vi aspettano battaglie che potrete vincere con la determinazione siate ben radicati nel concreto evitate di essere fumosi in campo sentimentale aiutate un vostro amico ad affrontare un difficile cambiamento leone serenità nei rapporti interpersonali chi vi circonda valuta positivamente il vostro operato e vi regala apprezzamenti lusinghieri un piccolo sacrificio in amore sarà ampiamente ricompensato vergine interessi professionali da salvaguardare potenziando le pubbliche relazioni in famiglia imparate a condividere gioie e dolori una cresciuta capacità di comunicare vi schiude nuovi orizzonti bilancia venere vi incoraggia ad assumere nuovi impegni che coinvolgono la vita sentimentale buoni stimoli per vivere una più intensa attività di relazione clima propizio ad una collaborazione fruttuosa e a vivaci scambi intellettuali scorpione vivacità di spirito e comunicativa nei rapporti che maggiormente stimolano il vostro bisogno di allargare gli orizzonti nel lavoro chiaritevi gli obiettivi da raggiungere e non sprecate energie in troppe direzioni sagittario notizie inattese influenzano le vostre decisioni con sviluppi senz'altro positivi non abbiate paura del cambiamento e toglietevi un'abitudine che può danneggiare la vostra salute felici conferme arrivano dalla sfera affettiva buona anche la forma fisica capricorno createvi spazi per una maggiore libertà d'azione cercando di conciliare mente e cuore mettete a fuoco gli aspetti finanziari di una trattativa date spazio alla comunicazione una conquista si affaccia all'orizzonte acquario molti pianeti favorevoli regalano una maggiore libertà d'azione e mettono l'accento su tutto ciò che è nuovo ed anticonvenzionale possibilità di trovare validi incentivi per collaborazioni ad ampio respiro pesci nuove strategie vi permettono di risolvere vecchi problemi nei rapporti con gli altri spontaneità ed essenzialità vi premiano con la persona amata usate l'arma della dolcezza e guardate le cose con più ottimismo grazie a tutti grazie a tutti